Musica Certamente svegliarsi alle 5 di mattina potrà sembrare una cosa alquanto folle Però ti voglio raccontare in questo video come ci sono arrivato e quali sono stati diciamo le primi benefici, le prime opinioni che appunto ho collezionato in questa settimana Partendo dal come sono arrivato a svegliarsi alle 5 di mattina devo dire che la cosa è ancora più folle di quella appunto che ho fatto in questa ultima settimana Perché sostanzialmente ho iniziato novembre veramente male, le prime due settimane dal 3 novembre in poi sono state veramente drammatiche Non tanto dal punto di vista di produttività perché comunque qualcosina ho fatto lavorativamente parlando Ma purtroppo dal punto di vista di gestione della giornata è stato un disastro Ho subito un jet lag di non so 6-7 ore perché praticamente andavo a letto alle 4-5 di mattina e mi svegliavo a mezzogiorno l'1 alle 2 Il problema è che comunque nella mattina sì riuscivo a riposare però effettivamente era una qualità del sonno completamente diversa rispetto a quella di adesso Mi stavo veramente stressando anche perché passare da ottobre a novembre con una temperatura qui a Pisa completamente diversa Almeno 10 gradi al di sotto diciamo di la temperatura che era abituato inoltre con molta molta meno luce Veramente pochissimo sole cosa che qui fino a ottobre è stato veramente bello Quindi è successo che mi sono trovato appunto con pochissimo sole inoltre svegliandomi male in ritardo avevo praticamente solo il pomeriggio Quindi alle 5 e buio quindi tipo 3-4 ore di luce per poi dopo tornare con il buio È stato abbastanza deprimente ma sostanzialmente una sera sono riuscito praticamente a tirare fino al giorno dopo ed andare a letto piuttosto presto Mi sono svegliato il 22 mattina alle 5-24 andando a letto la sera prima verso le 8-9 Mi ero fatto forse anche un riposino la mattina comunque sia per cercare leggermente di staccare perché comunque sia se stai sveglio più di 24 ore fa malissimo E quindi niente ho fatto questa cosa qua e quindi mi sono svegliato alle 5-24 E la cosa diciamo così positiva è che sono andato a letto per diciamo stanchezza Quindi arrivavo la sera dopo una giornata comunque sia lavorativa di movimento e compagnia bella comunque sia stanco Poi scrivevo qua nel journal mi scrivevo anche mezza pagina una pagina Vedevo un attimino come mi sentivo cose positive cose negative che erano successe e così via La cosa assurda e questa è una cosa veramente assurda è che io praticamente il 24 mi sono svegliato alle 3 di mattina Sì hai capito bene mi sono svegliato alle 3 di mattina dopo aver dormito quelle 7 ore Ero andato a letto verso le 8 e mezzo quindi alle 9 già stavo dormendo Ovviamente il giorno in cui mi sono svegliato alle 3 di mattina ho dormito un pochettino durante il giorno Un 2-3 orette il pomeriggio però fortunatamente sono riuscito a tornare a letto verso le 21 Questa cosa qua insomma mi ha fatto un attimino riflettere perché effettivamente mi sono svegliato alle 3 di mattina Ragazzi stavo da dio cioè stavo benissimo ovviamente è un po' troppo esagerato perché comunque sia secondo me troppo presto 4-5 di mattina se dormi di qualità funziona È la prima volta che mi sveglio riposato in questi giorni Mi sono preso l'omega 3 da Bull Power, la vitamina C, la vitamina D3 e la B12 che ho già da tantissimo tempo E queste 4 combinate effettivamente ho sentito che mi hanno aiutato tantissimo a star meglio durante la giornata Io le prendo sempre la mattina dopo aver fatto colazione e ragazzi sinceramente devo dire che sto meglio, mi sento molto più riposato, riesco a concentrarmi molto di più Svegnandomi presto quindi verso le 3-4-5 mi sono reso conto che ho conquistato un sacco di tempo E questa è una cosa che veramente sono felicissimo da una parte però mi sono reso conto cioè cavolo ora mi serve veramente un piano per gestire la giornata Devo dire che oggi per dire mi sono svegliato alle 4 di mattina e tipo oggi è stata una giornata un po' particolare perché questo qua che è l'iPhone 11 come puoi vedere L'ho usato veramente tanto e ovviamente oggi con giovedì ho iniziato a pubblicare per i miei clienti diciamo anche i contenuti del Black Friday Quindi comunque sia sì sono stato un attimino più presente che da una parte va bene però ovviamente secondo me bisogna anche dosare perché stare due ore e mezzo su Instagram per me è troppo Cioè per me già mezz'ora un'ora è tanto, non voglio andare oltre per andare poi dopo a perdere diciamo quello che è la produttività e altre cose Quello che mi sono reso conto io è questo che svegliarsi presto la mattina è una roba fighissima anche perché come l'ho strutturata io nei momenti di buio Quindi dalle 4 in poi dopo che hai fatto quella mezz'ora ora dove ti fai la doccia, mangi, leggi, scrivi, fai queste cose qua che ti fanno bene Mi sono reso conto che dalle 6-7 in poi riesco a fare un sacco di piccole cose che mi sono scritto ovviamente Quasi micro commissioni online quindi o con il computer oppure cose fisiche che devi fare Che ti consente di iniziare poi dopo la giornata lavorativa quindi verso le 8-9 che devi fare le cose principali Quelle due o tre cose blocchi importanti diciamo di lavoro e poi è finito E mi sono reso conto ragazzi che io sono arrivato dopo pranzo a non fare niente Questa è una cosa bellissima perché effettivamente aver lavorato la mattina prestissimo Uscendo fuori camminatina e rientrando per lavorare la mattina quindi siamo al secondo blocco di lavoro Cavolo mi sono reso conto di aver guadagnato il pomeriggio un sacco di tempo Dalle 2 e mezzo, 3 fino alle 7 io comunque sai il tempo che posso utilizzare Poi 8-9 è il momento di night routine e poi dopo alle 9 andare a letto Infatti adesso sono le 8 quindi manca un'ora per andare a letto Sinceramente non ho tanta fame quindi mi mangerò qualcosina al volo E poi dopo quindi anche di leggero e poi dopo andrò a letto Allora questa cosa qua è fighissima perché veramente ti consente di fare tante cose Il problema ragazzi ovviamente è che non hai la vita sociale la sera Ok quindi ovviamente questo è un problema perché il pranzo lo puoi fare tranquillamente Con clienti, amici, parenti, quello che ti pare Però la sera non lo puoi fare perché se mangi alle 9 Quindi fra una cosa e un'altra vai a letto alle 11 non ti puoi svegliare alle 5 Cioè è matematicamente impossibile e non lo consiglio a nessuno Anche perché se dormi poco veramente ti fai del male E poi personalmente se io dormo poco poi dopo ritorno a letto E uno dei motivi per cui ho preso il jet lag è anche perché mi ero svegliato presto una mattina Sforzandomi ma poi dopo non ce l'ho fatto durante la giornata Ho dormito il pomeriggio tutto e quindi ovviamente ho rivissuto Ho iniziato la mia mattina la sera Quindi ovviamente attenzione dormite a meno quelle 7 ore anche 8 che vi fanno benissimo Quelle 4-5 ore no non vanno affatto bene Vorrei raccontarti un paio di cose che non mi sono piaciute Che mi sono capitate durante appunto questa routine diciamo da battaglia di svegli alle 5 di mattina E sono queste Svegliandomi presto ho guadagnato tempo E questa è una cosa bellissima che secondo me non apprezzo Però ovviamente con tanta quantità di tempo devi essere anche capace a scindere le quantità in porzioni corrette Ovviamente in questa settimana non mi sono voluto troppo stressare Anche perché se tu cerchi di quantificare qualsiasi cosa ti anichilisci Almeno a me succede così Però mi sono reso conto che ci sono stati diciamo momenti veramente persi Di no sense Tipo stamani ho smanettato parecchio con il telefono Quando potevo fare molti più cose E quindi infatti ora vorrei fare una cosa che poi ti racconto Oppure il fatto di fare una camminata la mattina più lunga Passando a caso mai anche dal fornaio Prendendo anche cose diciamo leggermente superflue e così via Quindi la gestione del tempo è una cosa molto importante Adesso mi voglio creare un planning Queste regole mi consentiranno appunto di sfruttare le prime ore del giorno Nel miglior dei modi poi casomai dopo pranzo posso veramente fare quello che mi pare Però la mattina visto che ho notato proprio questa qualità sul lavoro Sulle cose mie personali altissima Sono contentissimo e mi fa strapiacere Un'altra cosa che non mi è piaciuta è la gestione dei pasti Perché sì sto mangiando piuttosto bene di cui sono contento Però secondo me è importante un attimino gestire meglio i pasti Perché mi sono reso conto che la mattina faccio due colazioni E questa cosa qua non è male Il pranzo va abbastanza bene La cena la faccio leggera Però devo un attimino diciamo mettere delle regole Del tipo ok cosa mangio la sera Che mi consenti di andare a letto senza essere appesantito Però che comunque sia mi nutre bene Anche perché se tu inizi poi dopo a non mangiare bene Non mangiare bene significa anche non mangiare alcuni macronutrienti Non significa andare a sgarrare Mi è capitata in questa settimana almeno 3-4 volte Di dormire quelle 2-3 ore il pomeriggio Infatti anche oggi dalle 3 e mezzo fino alle 5 e mezzo Un paio d'orette mi sono sdraiato e proprio ho dormito Ok cioè alla fine recupero energia quindi va benissimo Infatti adesso sono abbastanza fresco Nonostante siano le 8 di sera Cosa che senza riposino questo video qua non l'avrei mai fatto a quest'ora Mezz'ora di riposino va bene Due ore sono troppe anche perché rischio di non addormentarmi Ok anche perché se vado a letto veramente stanco Dormo subito e quindi la probabilità di andare in sonno profondo Aumenta secondo me nettamente E l'altra cosa ovviamente se dormo 2-3 ore Piuttosto preferisco aggiungere un'ora alla notte Ok quindi vado a letto un po' prima Mi sveglio leggermente più tardi Tipo 5 e mezzo per dire E così posso sfruttare quelle ore di sole Comunque per uscire fuori Per fare movimento per fare sport Oppure semplicemente per anche lavorare Comunque fare cose che c'ho il sole Perché ovviamente dopo le 5 è tutto buio E quindi io ho bisogno del sole Cioè per me è una cosa proprio sine qua non Quindi cioè necessaria Questa settimana qua è stata insieme anche grazie a questo diario Io ho preso come diciamo così regola tramite internet Quindi un video che ho visto su youtube 4 regole per scrivere il journal Quindi per scrivere giornalmente Ovvero pensieri liberi 3 cose di cui sei grato oggi Affermazioni Quelle che vuoi E 3 cose importanti da fare oggi Ragazzi funziona Devo dire che funziona Io prima facevo journal Però molto a caso Quello che mi capitava Avere questa struttura di pensieri Che poi scrivi È fighissimo Perché la cosa che mi è piaciuta più di tutte Sono le 3 cose di cui sono grato Che devo dire Sono belle Sto iniziando un attimo Di non andare Meno per scontato Alcune cose Quindi ecco Questa cosa qua Però non è scontata Perché purtroppo ci sono persone Che questa cosa qua Non ce l'hanno Ok Perché anche ci sono nate Menti caso Togliamo l'incidente Proprio anche ci sono nate Quindi visto che Non è una cosa scontata Secondo me Ricordarlo Nella miglior versione Quindi in maniera Propositiva Non depressiva In maniera positiva Secondo me Funziona da dio Mi ha aiutato tantissimo A segnarmi tre cose Da fare Al giorno Perché il mio problema E questo te lo dico Con molta franchezza È sempre stato quello Di fare overbooking Inteso come Voler fare più cose Di quello che effettivamente Era possibile fare Giornalmente Almeno che non Volessi sclerare Allora se uno sclera Può fare tutto quello Che vuoi durante il giorno Però purtroppo Poi dopo non duri Nel lungo periodo Iniziato questa cosa qua A farla il 23 E devo dire Che la media È molto buona Cioè alla fine Su 3-4 cose Che mi segno giornalmente Riesco a farle tutte O almeno 3 su 4 Ed è molto bello Molto molto bello Perché fatte quelle Sei a posto Casomai devi fare anche altro Però almeno Hai chiuso un cerchio Che hai aperto E io ti dico I primi giorni Che finivo Diciamo verso le 10-11-12 Già a fare tutto Avevo una sensazione Di pace pazzesca E questa cosa qua Secondo me è impagabile Perché anche dal punto di vista Di autostima Guadagni un sacco di punti Rispetto ad avere Praticamente Una lista Di casomai 20 cose Che sei sempre In ritardo Questa cosa qua Di essere ogni giorno In ritardo Secondo me Dal punto di vista psicologico Ti distrugge Perché sei sempre A rincorrere tu Il tempo Le persone Le cose I clienti Invece adesso sono io Padrone del mio tempo Ora Lo sto diventando Però è fighissimo Tipo Vedi qui Ho fatto tutti e 4 punti Ho sbarrato tutto Come vedi E avanti Questo è bellissimo È veramente veramente bello Mi piace un sacco Andando avanti Con i giorni Posso vedere effettivamente Quanto ho fatto Questa è una cosa figa E se una cosa Metti caso Non l'ho ancora fatta La posso andare sempre A rifare A spuntare E poi ok Il giorno l'ho fatto Spero che questo video Ti sia piaciuto Io mi sto divertendo molto Questo è L'inizio Di una cosa Molto più grande E spero che appunto Tu potrai Appunto Seguirmi In questo percorso E niente Al prossimo video Ciao